Matteo, partiamo dalle tue condizioni, poi analizziamo la partita, ti abbiamo visto uscire tutto a posto, rassicuri tifosi. Sì, ho sentito un po' di fastidio, domani faremo gli esami, spero di essermi fermato in tempo per non aver aggravato la situazione, ma spero di essere disponibile da subito. Arriviamo alla partita, il tuo gol ha rotto subito l'equilibrio, in particolare il tuo approccio in questa squadra è stato davvero ottimo, stai trovando gol veramente con regolarità incredibile. Sì, fortunatamente è così, ma devo ringraziare la squadra, lo staff, il mister, perché mi hanno subito messo nelle condizioni ideali, mi hanno subito fatto trovare a casa come se fossi qua da una vita, quindi devo ringraziare soprattutto loro. Poi in questo periodo la palla sta entrando e siamo contenti perché diamo punti all'entella. Tu ne hai viste tante, sono tanti anni che giochi campionati anche di categorie superiori. Secondo te questo gol per come è arrivato al novantesimo, quanto può spostare gli equilibri in questa corsa, in questo rush finale? Sicuramente sposta gli equilibri perché ha dato tre punti a noi, zero a loro per il momento, quindi è uno scontrieto importantissimo. Al novantesimo pesa ancora di più sul morale, credo, però non dobbiamo abbassare la guardia perché abbiamo ancora una marea di partite, può capitare un passo falso da un momento all'altro, quindi ancora sul pezzo. Abbiamo una rosa molto ampia e molto competitiva, quindi chiunque scenderà in campo perché ovviamente ci sarà da ricambiare, sarà all'altezza. Grazie a tutti.